Ero convinto ci fosse un accanimento nei confronti dell'azienda, lo ha detto il fondatore dell'AEP Pasquale Sposito, che oggi ha risposto alle domande del GIP di Udine in merito all'inchiesta sulle mense scolastiche. Lunedì Green Pass obbligatorio in luoghi affollati, un coro di sì arriva dai dirigenti scolastici del Friuli per far accedere a scuola solo che è munito di carta in caso di focolai o covid, ma resta l'incognita a trasporti. Sono 92 nuovi contagi riscontrati negli ultimi due giorni in regione, più della metà di persone con meno di 29 anni, tre casi tra ospedali e case di riposo, sono 1.350 e i sanitari non ancora vaccinati, erano 5.000 ad aprile. Buoni segnali sul fronte dell'occupazione in regione, nei primi cinque mesi dell'anno saldo positivo di 21.000 unità, cuochi, camerieri, le figure più ricercate, dieci anni di rifondazione per l'Unione Fincantieri Monfalcone che attende il ripescaggio in promozione per il decennale, il sindaco Cisint lancia l'idea di un Fincantieri Stadium, rinascita di una città a lungo bistrattata. A tutti voi buonasera, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo parlando dell'inchiesta sulle mense scolastiche. Oggi ha parlato rispondendo alle domande del GIP di Udine il fondatore della EP Pasquale Esposito. Ero convinto ci fosse un accanimento nei confronti dell'azienda, ha detto, e non ho mai dato alcuna direttiva ai dipendenti. Ero convinto che dietro alle continue segnalazioni ci fosse un accanimento nei confronti dell'azienda. Da tempo ho dismesso la carica di amministratore e non ho mai dato alcuna direttiva ai dipendenti. Ha risposto così Pasquale Esposito, fondatore della EP SPA con sede operativa Napoli, alle domande del GIP di Udine Matteo Carlisi durante l'interrogatorio di garanzia per l'inchiesta sui pasti serviti nelle mense scolastiche di Udine e di altri sei comuni friulani. Esposito, ore domiciliari, si è collegato in teleconferenza con il Tribunale di Udine dalla stazione dei Carabinieri di Mergellina. Il mio cliente, dice l'avvocato Giacquinto Vittorio di Santa Maria Capuavetere, difensore di Esposito assieme all'avvocato Gabriele Di Maio di Torre Annunziata, ha spiegato che era convinto ci fosse un'azione tesa di famare l'attività dell'azienda, vista le segnalazioni quasi quotidiane sul cibo servito, e che ha anche tentato di capire da varie fonti chi ne fosse l'autore. Una situazione, continua, da lui segnalata anche all'autorità giudiziaria di Udine con un esposto. Infine, ha detto di essere intervenuto solo a difesa dell'azienda da lui creata, conclude il legale, che ha fatto istanza al Tribunale del Riesame di Trieste. Si è invece avvalsa della facoltà di non rispondere l'altra persona ai domiciliari interrogata per via telematica, il direttore d'aria Agostino Cascone. Aspettiamo, afferma il difensore, l'avvocato Massimiliano Sartore, di Torre Annunziata, l'esito del riesame. Infine, a stretto giro di posta, Carlisi dovrà decidere in merito alla richiesta di attenuazione delle misure cautelari, avanzata dall'avvocato Barnaba Battistella Dioderzo, difensore della dirigente d'aria Ketty Bandiera, anche lei ai domiciliari, sentita lunedì a Treviso tramite rogatoria. Sulla vicenda delle mense scolastiche, il nostro Andrea Pierini ha interpellato il vicepresidente della regione, Riccardo Riccardi, che ieri era stato tirato in ballo dalla consigliera regionale Simona Liguori rispetto alle sue responsabilità sulla vigilanza. Riccardi ha sottolineato come il fattore economico non possa essere l'unico indicatore per le gare d'appalto. Guardi, ho letto una dichiarazione irresponsabile di un consigliere regionale che come si alza la mattina a trovare qualcosa da dire che non va, addirittura chiedendo a me perché non mi sono occupato di queste cose. Lì c'è un contratto, c'è un'indagine in piedi, io non è che posso occuparmi di queste cose. Certo, i dipartimenti di prevenzione devono occuparsi della rigorosa applicazione di quelle che sono le regole e se in questo caso ci sono delle cose che non hanno funzionato è giusto e questo lo deciderà l'autorità giudiziaria che le responsabilità vengono individuate. Io per quel che riguarda le mie responsabilità dirette ho fatto quello che dovevo fare per quel che riguarda la ristorazione ospedaliera. C'è un bando in corso, c'è un lavoro di un certo tipo importante, parliamo di numeri importanti, parliamo anche però della vita delle persone. Io non credo che si possa ridurre tutti questi aspetti, è un fatto economico. Il valore economico è un valore importante ma non può essere quello a dare la linea quando parliamo di garantire una corretta alimentazione delle persone, siano essi bambini, siano essi anziani. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini oggi ha visitato i centri estivi delle scuole primarie Polito Nievo e San Domenico, obiettivo del sopralluogo valutare le attività che svolgono i bambini e poi chiedere proprio a loro un parere sul nuovo servizio mensa erogato in questi giorni dalla Sodexo Education. Ha voluto testare con mano il nuovo servizio mensa al sindaco di Udine che ora ricopre anche l'assessorato all'istruzione Pietro Fontanini visitando questa mattina i centri estivi delle scuole primarie Polito Nievo e San Domenico. E' il primo cittadino accompagnato dalle due responsabili dei centri da Massimiliano Ponton rappresentante della Sodexo che dopo la chiusura del contratto con l'EP fornisce i pasti alle scuole cittadine è rimasto impressionato delle attività che si svolgono. In pratica la cooperativa che sta gestendo questo luogo di aggregazione ha deciso di formare i bambini sul rispetto del verde, dell'ambiente e quindi hanno organizzato tutta una serie di incontri oggi ad esempio hanno fatto sperimentazioni con l'energia solare per spiegare ai bambini l'importanza dell'ambiente e anche le energie alternative. Stiamo sviluppando il tema del Green Deal come tema del centro estivo 2021 abbiamo intrapreso diverse attività laboratoriali riguardo a questo tema per far scoprire ai bambini cosa significa accessibilità, ecosistema, mobilità sostenibile. I bambini in questo momento stanno rispondendo molto bene sono molto interessati alla tematica che viene affrontata sia a livello di gioco e di situazioni ludiche che a livello laboratoriale con la partecipazione di molte associazioni del territorio che si sono rese disponibili a collaborare con noi l'associazione Io ci vado, Ripuliamoci Challenge, i consorzi apicoltori, l'ARPAFVG e nei prossimi mesi ne ospiteremo molte altre. domani il governo dovrebbe incontrare nuovamente le regioni per chiudere l'accordo che riguarda il nuovo decreto anti-covid due i temi al centro dell'attenzione da un lato il sistema di colorazione delle regioni proprio oggi i presidenti di regione capitanati da Massimiliano Fedriga hanno presentato una proposta al governo e poi gli ambiti d'azione per il Green Pass che diventerà obbligatorio lunedì per quanto riguarda i luoghi affollati. Vediamo. domani, teoricamente, sarà il giorno della risposta il vertice odierno tra la conferenza delle regioni guidata da Massimiliano Fedriga e il governo si è concluso con un nulla di fatto in quanto l'esecutivo dovrà, unitamente al Comitato Tecnico Scientifico valutare le proposte ricevute e trovare la mediazione. Da un lato gli esperti vorrebbero il Green Pass obbligatorio per tutti le regioni invece hanno proposto un sistema a scaglioni sulla base dei contagi con, e qua sta il punto nodale, la libertà anche in zona rossa per chi ha effettuato il doppio ciclo di vaccinazione. C'è anche il tema tamponi che potrebbero consentire di godere delle libertà della certificazione verde per 48 ore. Confermata anche la linea sulla scuola, sempre in presenza, se dotati di Green Pass. Su questo tema il vicepresidente Riccardo Riccardi ha sottolineato come il paradosso vede al Friuli Venezia Giulia i primissimi posti per la profilassi del personale scolastico e agli ultimi per i vaccinati tra il personale sanitario. In questo senso sono ancora 1.350 i sanitari Novax ridotti dai 5.000 di inizio campagna. Riccardi, nel corso del discorso di complimenti in area Giuliano Isuntina per specializzanti ai studenti di medicina che hanno preso parte della campagna vaccinale, ha anche sottolineato come attualmente la copertura complessiva sia arrivata al 60%. Oltre 400.000 persone hanno infatti ricevuto la prima dose e di queste solamente 446 si sono contagiate, una percentuale di meno lo 0,01%. Nel 446 il 35% ha avuto bisogno di cura ospedaliere e nessuno è finito in terapia intensiva. Sul Green Pass Riccardi ha sottolineato come non dovrebbe essere tema di scontro politico e la linea delle regioni è quella più corretta con da subito l'obbligo per riaprire eventi, discoteche e luoghi di grande affollamento come conferenze e fiere. Un altro nodo in discussione invece a livello nazionale, come invece ha spiegato Fedriga, riguarda le colorazioni che dovranno cambiare non più sulla base dei dati del contagio in assoluto ma su quello delle occupazioni ospedaliere e in particolare delle terapie intensive. La soglia per passare da bianco a giallo deve essere almeno del 30%, ora è del 5%. I dirigenti scolastici del Friuli, interpellati da Telefriuli, si dicono favorevoli all'ipotesi di far accedere a scuola solo chi è munito di Green Pass in caso di focolaio Covid in classe. Uno strumento che garantisca la presenza in classe è utile, dicono i presidi, che continuano comunque a guardare con preoccupazione la vera incognita, quella dei trasporti. I presidi friulani accolgono con favore l'ipotesi di far accedere a scuola solo chi è in possesso del Green Pass, personale, docenti e studenti, in caso di focolaio nell'istituto, un sistema che eviterebbe di rimandare in didattica a distanza intere classi. Personalmente sono favorevole a tutto ciò che potrà evitare a settembre la ripresa a singhiozzo. Il Green Pass potrebbe aiutarci senz'altro a semplificare le cose, a consentire al maggior numero di studenti di partecipare alle lezioni in presenza, perché è questo il nostro obiettivo. Il problema riguarda la mancata vaccinazione di gran parte dei nostri studenti, è questo che ci sta creando davvero dei grossi problemi e delle grandi preoccupazioni. I dirigenti scolastici, come sempre, sono pronti a convivere con la novità in arrivo. Ciò ci consentirebbe di arricchire le opportunità di mantenere in presenza quanti ragazzi più possibile, che è fondamentale per la didattica, ancorché abbiamo attraversato un lungo periodo di didattica alternata, ma rimane la presenza il momento più efficace per l'apprendimento e la crescita dei ragazzi. Il vero nodo restano però i trasporti, che potrebbero condizionare l'avvio degli studenti in presenza, nonostante le recenti rassicurazioni del ministro Bianchi proprio in Friuli, e per questo studiano soluzioni alternative. Allo Stellini, per esempio, stiamo lavorando anche su un'ipotesi che vede l'attuazione del cosiddetto car sharing. Cioè, ci sono molti genitori che hanno già dato la disponibilità ad accompagnare con la loro auto molti ragazzi, in modo da decongestionare quello che sarà invece il traffico dei mezzi di trasporti pubblici. Tutti d'accordo sulla bontà della vaccinazione, ma niente obblighi per i lavoratori. CGL e CISL sono concordi nel affermare questo concetto di fronte alla proposta di Confindustria di condizionare l'accesso al lavoro ai soli vaccinati. Per il segretario generale della CISL, Alberto Monticco, il Green Pass non deve entrare in fabbrica. È chiaro, sottolinea, che l'ottimale sarebbe che tutti coloro che possono farlo si vaccinassero. Dall'altra parte, però, non possiamo permetterci discriminazioni tra i lavoratori. Credo invece che la strada da perseguire sia quella dei protocolli sulla sicurezza sottoscritti dalle parti sociali e dalla regione. Dello stesso avviso, William Pezzetta, segretario generale della CGL del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo sempre sollecitato i lavoratori a vaccinarsi, dice, soprattutto in settori sensibili, come la sanità e il sociale, ma ci opponiamo e continueremo a opporci a ogni misura tesa ad introdurre obblighi in violazione delle libertà e dei diritti individuali dei lavoratori. E negli ultimi due giorni in Friuli Venezia Giulia sono stati riscontrati 92 nuovi contagi a fronte di 12.287 tamponi effettuati. Il 56% dei casi riguarda persone con meno di 29 anni. Tra i contagiati ci sono tre migranti, altre tante persone rientrate dalla Francia, un infermiere, una ostetrica, un operatore di casa di riposo. Tra ieri e oggi non si registrano decessi, nessun paziente ricoverato in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono accolte 8 persone con Covid. I cittadini in isolamento sono 285. Fari puntati su giovani e ragazzi per incrementare la vaccinazione, nonostante siano categorie poco a rischio. Ma come spiega l'infettivolovo Massimo Krapis, sono una platea fondamentale per raggiungere l'immunità di gregge, viste le ritrosie di molti adulti al vaccino. Sempre più contagiosa, sempre più preoccupante. La variante Delta continua a trainare l'aumento dei contagi che riguardano in modo particolare i giovani. E proprio su di loro e sui ragazzi si sta puntando l'attenzione per ampliare la platea dei vaccinati, anche se parte della politica, Salvini in primis, non vorrebbe vaccinare gli under 40. Ma è tutta una questione di numeri per raggiungere l'immunità di gregge. Magari potrà essere presa come provocazione, ma non lo è. È un dato assolutamente scientifico. Se tutti gli adulti, diciamo, sopra i 20 anni, si vaccinassero, non sarebbe assolutamente necessario vaccinare i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Perché? Perché le percentuali che abbiamo detto, se arriviamo tra il 70 e l'80% di vaccinati e sono tutti gli adulti, in realtà a quel punto avremmo l'immunità di comunità, a quel punto noi proteggeremo anche i ragazzi sotto i 18 anni. Questo è chiaro, cioè deve essere chiaro da dire da un punto di vista epidemiologico. E lo dico perché ci ragioni chi non si vaccina, diciamo, cioè chi adulto non si vaccina. E' ovvio che la paura dell'effetto collaterale del vaccino fa molta più paura nel ragazzo, anche perché il beneficio clinico per il ragazzo in effetti è molto scarso della vaccinazione, nel senso che la portata della malattia sotto i 20 anni è veramente molto, molto bassa. Le malattie moderato gravi sono quasi a zero, moderate, sono veramente sporadiche. Non solo Covid, è cominciata la corsa per l'approvvigionamento dei vaccini anti-influenzali e per la campagna della prossima stagione il Friuli Venezia Giulia è tra le sette regioni italiane che complessivamente hanno già acquistato 3 milioni di dosi per 45 milioni di euro attraverso il sistema della Consip, la centrale unica d'acquisto della pubblica amministrazione. L'obiettivo è quello di garantirsi per tempo le dosi, la campagna vaccinale infatti partirà in anticipo da ottobre come previsto dal Ministero della Salute anche per immunizzare i cittadini ed evitare che i sintomi dell'influenza possano sommarsi e confondersi con gli eventuali sintomi da Covid determinando così un aggravio sulle strutture ospedaliere. E della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale del Friuli Venezia Giulia ha eletto a larga maggioranza nell'Assemblea di Udine il nuovo segretario regionale. Si tratta del dottor Fernando Agrusti che era già il referente del Sindacato dei Medici per il Friuli Occidentale. Nelle sue intenzioni c'è il potenziamento della medicina territoriale a supporto dei medici di famiglia. Gli auguri di buon lavoro sono arrivati anche dal Presidente della Federazione Regionale dell'Ordine dei Medici, Guido Lucchini. Due carabinieri sono rimasti feriti questa notte a Udine dopo essere stati aggrediti da un cittadino nigeriano che stava infastidendo una donna intenta a dare da mangiare a dei gatti. Lo straniero è stato arrestato i militari sono finiti in ospedale. Due carabinieri sono rimasti feriti questa notte nel capoluogo friulano da un cittadino nigeriano di 40 anni un uomo senza fissa dimora pregiudicato. Alla vista delle divise lo straniero ha dato in escandescenze scagliandosi contro di loro con violenza. Poco prima, in Viale Venezia, a Udine alcuni cittadini avevano chiamato il 112 segnalando che lo straniero stava molestando una donna intenta a dare da mangiare a dei gatti. Giunti sul posto hanno cercato di identificarlo ma lui li ha colpiti. A quel punto i militari della radiomobile della compagnia di Udine e della stazione di Martignacolo hanno bloccato ma sono rimasti feriti e sono stati medicati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È stato processato per direttissima questa mattina. L'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato rimesso in libertà. Si allontanava dal posto di lavoro per motivi di servizio ma poi si intratteneva al bar con amici, prenotava visite mediche o si fermava in libreria o drogheria per acquisti personali. Alle volte invece lasciava il posto di lavoro per inconvense private senza giustificazione. Per questo motivo il nucleo di polizia giudiziaria ha denunciato per truffa aggravata ai danni dell'ente e per falso un dipendente del comune di Trieste di 58 anni residente in città. Lunedì l'uomo è stato bloccato dalla polizia giudiziaria dopo un'uscita ingiustificata per acquisti in un negozio. La posizione dell'indagato è al vaglio della magistratura e del competente ufficio comunale. Allarme a Gorizia per una persona sospetta aveva armi e strumenti atti allo scasso. La polizia di Stato ha denunciato un cittadino straniero pregiudicato. Nel pomeriggio di ieri la presenza dell'uomo vicino ad alcuni negozi di via Trieste è stata segnalata al 112. Il personale della squadra volanti ha identificato l'uomo, un cittadino ungherese di 58 anni già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. È stato sorpreso in possesso di un coltella seramanico lungo 15 centimetri e di vari arnesi per lo scasso. Ed ora parliamo di occupazione perché arrivano segnali positivi dall'osservatorio regionale. Nei primi cinque mesi dell'anno il saldo positivo è di oltre 21.000 unità. Bene, costruzioni e manifattura arrancano alberghi e ristoranti. Cuochi, camerieri ed operai specializzati sono le figure più ricercate. Sono più che confortanti i dati sull'occupazione in Friuli Venezia giuria forniti dal report dell'osservatorio regionale sul mercato e le politiche del lavoro per il periodo maggio-luglio di quest'anno. Se nel 2020 la regione ha tenuto attestandosi ai vertici nazionali con più 2.000 occupati rispetto al 2019 anche l'avvio del 2021 ha confermato il trend. Nei primi cinque mesi dell'anno le attivazioni dei rapporti di lavoro sono state nel complesso 80.466 contro le 58.633 cessazioni con un saldo positivo pari a oltre 21.800 unità. Il recupero rispetto al periodo pre-pandemia secondo il report sarà graduale ma deciso già nel solo mese di maggio infatti le assunzioni sono in aumento anche rispetto al 2019 più 6%. L'analisi dell'osservatorio regionale evidenzia come la ripresa delle assunzioni riguardi tanto i maschi più 28% quanto le femmine più 31 con una crescita relativamente più forte per le fasce più giovani più 43% per i 15 24 anni e più 32% per i 25 34 anni L'incremento riguarda soprattutto il contratto di somministrazione di lavoro più 54% e il lavoro temporaneo più 32% Guardando i settori di attività economica sono in forte ripresa le costruzioni più 52% l'istruzione più 75% e la manifattura più 39% Il settore alberghi e ristoranti più 27% rispetto al 2020 ma meno 41% rispetto al 2019 è ancora sottodimensionato rispetto al periodo pre-pandemia mentre migliori segnali arrivano dal terziario Le figure più richieste in questo periodo riguardano cuochi camerieri e altre professioni in campo turistico con circa 2500 richieste e gli operai specializzati della metalmeccanica e dell'elettromeccanica circa 1500 Un plafond complessivo da 97 milioni di euro messi a disposizione da Unicredit Factoring a beneficio di fornitori selezionati dell'azienda con l'obiettivo ultimo di generare un circolo virtuoso di liquidità Lo prevede l'accordo firmato tra Unicredit e il gruppo Pittini azienda con sede principale ad Osoppo e leader nella produzione di acciai lunghi destinati all'edilizia e all'industria meccanica finalizzato a sostenere le imprese all'interno della filiera produttiva della società Il campo nomadi di via Monteseibusi a Udine sarà recintato contestualmente sarà bonificata dai rifiuti anche l'area demaniale che circonda il Camposanto di via Emilia A deciderle è stato il sindaco Pietro Fontanini che ha fermato un'ordinanza volta a ripristinare il decoro della zona con la rimozione di circa 60 metri cubi tra inerti materiale ferroso rifiuti ingombranti e mobili spesso dati alle fiamme lo steccato e la pulizia sono stati decisi a seguito di un sopralluogo che il primo cittadino ha compiuto insieme all'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani e ai tecnici dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e Arpa serve preservare e tutelare la salute pubblica dei cittadini ha detto Fontanini purtroppo ha aggiunto il sindaco paghiamo anni di gestione tendenzialmente permissiva ma ora l'aria è cambiata ed è bene che tutti colgano il messaggio ha rimarcato il primo cittadino il comitato salva lago di Cavazzo lancia l'allarme sullo stato di salute del bacino idrico due anni fa fu promulgata la legge regionale per proteggerlo ma da allora denunciano i comitati nulla è cambiato Barazzotti due anni fa esce la legge regionale sul lago di Cavazzo sulla necessità di portarlo allo stato naturalistico originale ma dopo due anni non è cambiato niente sì ma quella legge diceva qualcosa di più stabiliva i criteri ma che significa non solo ripristinare la naturalità e la forabilità anche turistica anche turistica ma diceva una legge precedente di cui questa è emanazione anche cioè il piano regionale di hotel delle acque che va studiata la fattibilità di una condotta bypass che catturi le acque di scarico dalla centrale di Son Plago e le porti a valle del lago bypassandolo non è stato fatto niente allora noi facciamo un appello un invito una preghiera una richiesta a tutte le istituzioni del Friuli noi vogliamo che torni bello bello pescosissimo con acque tiepide in cui la mia generazione tutta l'estate da maggio ottobre le vacanze le trascorreva laggiù a pesca bagni e sulle barche dei pescatori per far questo cosa significa o una condotta in tubatura appoggiata sul fondo del lago o una galleria che prenda lo scarico la centrale e lo porti giù a valle del lago tonificando quindi le portate del tagliamento sono stati celebrati oggi 77 anni dall'eccidio di Malga Pramosio le truppe naziste uccisero una cinquantina tra bambini donne e anziani nella notte tra il 21 e il 22 luglio del 1944 nella cappelletta di Pramosio Don Tarcisio ha celebrato la messa presenti i sindaci del territorio e i rappresentanti regionali si ricordano le vittime di una tragedia di una strage che è partita da Malga Pramosio e si è perpetrata lungo tutta la valle del But lo si fa ogni anno con grande emozione io personalmente dopo 8 anni cerco sempre di trovare le parole magari giuste quelle più giuste nel momento in cui si vivono negli anni in cui si vivono e ogni anno si cerca di dare un messaggio come sindaci come rappresentanti delle istituzioni di grande responsabilità per quello che è successo ma per quanto noi dobbiamo guardare al futuro delle nuove generazioni a 77 anni dall'Eccidio ricorda in qualche modo ci fa pensare a questa assurdità di questa violenza che si è perpetrata non solo qui a Malga Pramosio ma in tutta la valle del But una violenza non giustificata nel quale non c'è stata una parola di giustizia né dei tribunali né della storia possiamo dire che c'è una giustizia della memoria che dobbiamo in qualche modo mantenere per cui questi fatti devono parlare al futuro a ogni uomo devono parlare a quello che in qualche modo possiamo fare in termini di violenza verbale o in termini di qualsiasi altro tipo di violenza Il nostro telegiornale termina qui tra pochissimo l'informazione sportiva si parlerà tra l'altro dell'idea lanciata dal sindaco di Monfalcone Cisint di un Fincantieri Stadium e poi l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda grazie per averci seguito a tutti voi l'augurio di trascorrere una buona serata arrivederci a tutti i nostri a tutti i nostri